Il caffè maro di oggi lo prendiamo con la patetica lagna vittimista della sinistra italiana Perché ci hanno vecchiati? Supportata a insospettabili livelli istituzionali Parliamo ovviamente delle manganellate di Firenze e Pisa Ma fascisti? In un caso il corteo voleva infilarsi in una stradina stretta Forzando un cordone della polizia e andando verso il consolato americano Nell'altro caso c'era un'altra area protetta Che comprendeva la sinagoga, il cimitero ebraico Anche lì sorvegliato dalla polizia I nostri poveri ragazzi Chiacciavano i poliziotti contro i loro mezzi E volevano andare in un posto in cui gli era impedito Chiunque abbia un minimo senso delle istituzioni Di fronte a questo sa benissimo quello che succederà A meno che uno non pensi che questi debbano poter fare il cazzo che vogliono Ed è strano perché non ho sentito nessuno di voi Quando durante il covid con l'idrante spruzzavano quelli che protestavano davanti al porto di Trieste Oh no, voi eravate nelle vostre belle ZTL Ambrogio, questi subumani hanno sete Diamogli da bere Buon caffè, cercatemi su Youtube e iscrivetevi al canale